Buongiorno! Ieri da Casa Shops ho acquistato il cesso per la Monstera. Eccolo qui, semplice ma è proprio come lo volevo. È bello robusto, è intrecciato e ha dei colori, come si può notare, che ricordano quelli dei cestini del mobile della tv. In quanto io devo metterlo da quella parte, vicino a loro. Quindi volevo un'unità cromatica non eccessiva, però comunque non volevo una cosa troppo chiara o troppo scura. Volevo una roba abbastanza in tono. E ho trovato questo, sono molto contenta. È fatto così. Ce n'erano una valanga bellissimi dappertutto, da Maison du Monde, da H&M Home, da Casa. Tutti avevano i cesti, veramente c'era di tutto. Avesse avuto una seconda pianta, avrei avuto probabilmente l'imbarazzo della scelta. Perché veramente... Questo sono andata sul sicuro. Però ce n'era un altro che mi piaceva molto, un po' più paglia, un po' meno legno, un po' meno giunco, con il fondo di un bel verde, lo stesso colore della mia libreria, tra l'altro. Quindi sarebbe stato perfetto anche lui da tenere presente, ovviamente. Comunque l'anno dei cesti e dei cestini. Se ne trovano ovunque, veramente, veramente belli. E adesso metto dentro la pianta, poi vi faccio vedere. E adesso metto dentro la pianta, poi vi faccio vedere. C'è già una foglia che si sta per aprire. Questa si srotolerà e diventerà come le altre, ovviamente. Eccola qua. Che ve ne pare? Secondo me... È perfetto questo vaso. Mi sembra veramente, veramente perfetto. Mi piace un sacco, sono molto contenta. Andremo a infilare anche il Blumat, poi, in modo tale che si abbeveri da sé. Volevo farvi vedere questo arrivo. L'ho ritirato all'Amazon Locker. Si può già vedere dalla figura. Sono dei beccucci da infilare nelle bottiglie, per fare la stessa cosa che io faccio normalmente con i tappi. Ma in modo un pochino più... Fatto bene, ecco. O comunque fatto meglio rispetto al mio rudimentale accrocco. Ecco qua. Ce l'ho fatta, perdonatemi. Faccio vedere uno. Praticamente sono fatti così. Questo va nel terreno. Qua si infila la bottiglia. C'è anche tutta la parte... Fatta apposta. Poi ci sono... I sostegni. Perché funziona in questo modo. Giusto per avere un'idea. Funziona così. Avevo un sacco di recensioni positive, quindi mi auguro che effettivamente funzioni. E... Mi sembrava una buona idea. Eventualmente consigliavano, invece che tagliare il fondo della bottiglia, di fargli semplicemente un buco in modo tale da farla arieggiare, non farla flusciare su se stessa, però senza dover avere la parte qui aperta che comunque attira gli animaletti, eccetera, eccetera. Quindi... Anche no, ecco. E niente. Questo è quanto. Fa caldissimo. Sto editando, sto guardando un video di Gemina e Cesar. È proprio veramente, veramente caldo oggi. Sono arrivata a casa da lavoro e... Sono cotta. Non vedo l'ora di mangiarmi un bel gelatino. Adesso, tra un po', appena finisco di lavorare qua, pausa e gelato. Se vedete là in fondo, il mio basilico è già cresciuto tantissimo. Sono super felice. Ok, non so cosa ne penserete. Attendo opinioni. A lavoro è saltato fuori questo meraviglioso mini bancalino che ho trovato subito adorabile, tempo fa. Questo. L'ho portato a casa perché era piccolino, ho detto magari per i fiori in terrazza, eccetera, eccetera. Poi, quest'angoletto così, boh, continuavo a rimuginarci e alla fine mi metto un po' più raso terra. Io l'ho messo qui e mi piace un sacco. Adesso, la ledera non deve neanche stare di qua, ma deve andare in bagno, quindi non consideriamola minimamente. Ma è un esempio di pianta, altra pianta, che si potrebbe posizionare sullo stesso bancale. o, eventualmente, io vorrei un altro cesto con una pianta magari un pelino più bassa da mettere qui, appena davanti, in modo tale da coprire quelli che sono i due cavi che io non posso spostare. Una è l'antenna dalla tele e una è la presa, la produga che va dietro alla ciabatta per tutti i cavi della tv che sta qui, in questo mobile qua. Come ben sapete. Salute. E niente, mi piace, mi piace proprio. Non so cosa ne penserà a metà, magari mi dirà un ruore, riputtalo fuori in terrazza e fai qualcosa fuori, non portarmi in casa per roba. Ma in realtà mi sembra proprio adatto a questo ambiente. Alla fine qui abbiamo tutte queste cose un po' legno, così. Ci sono dei colori che ritornano. E mi piace proprio, ho messo qua, quello che forse c'è meno, è la lampada, questa qui, la lettura, che prima aveva un po' più di senso, adesso un po' meno. Quindi in quella posizione perde un po' della sua funzionalità. Bisognerebbe ristudiare questa cosa, ecco. Però per il resto mi piace veramente tanto. Lo trovo veramente carino. Anche con l'edera così, che non è stata ancora trapiantata, né niente, vabbè. Però già da sola non mi piaceva. Già messo accanto qualcosa per dare un'idea di riempimento, mi piace un sacco. Poi mettendo qualcosa d'altro un pochino più basso, magari con un'altra, come si chiama, Sansevieria, qui in un vaso magari sempre di intrecciato, una cosa così, appena più avanti, giusto per coprire questa zona e lasciarla dietro, sarebbe veramente perfetto. Cani in giardino. Non lo so, mi piace veramente tanto. Cosa ne pensate? Fatemi sapere, attendo pareri. Questo è l'angolo. Qui c'è la tele, fatta in questo modo. Lì c'è l'altra pianta, lì c'è la finestra e qua dove sono io per terra c'è il divano, che è di questi colori e c'è il divano. Il tappeto è il divano. Il divano non è di questo colore, ma in questo periodo ovviamente metto un copridivano di cotone perché fa caldissimo. Il divano è un color cioccolato, quindi nel senso sta bene. Cioè il divano riprende i profili di quel mobile, i cesti riprendono questi colori, il bianco è un colore che in casa comunque c'è, il nero è un colore che c'è. Nel senso, i colori qui in sala sono questi, ecco, e quelli del tappeto, i grigi, i marroni, i neri, i bianchi e colori naturali, ecco. Fatemi sapere. Poi magari ora di quando uscirà questo video avrò già comprato un'altra pianta, eccetera, nel caso ovviamente vi aggiorno man mano. Però attendo un'opinione, ecco. Io sono giunta, l'ho girato 50 volte, l'ho messo per il lungo, l'ho messo con la parte più lunga e più aperta di là. L'ho messo al contrario, però la barriera non mi piaceva del lato di lì, tutta dritta. Ho fatto mille milioni di prove, questa è la migliore e mi piace. Mi piace veramente tanto. Tra l'altro è buco anche da questo lato, quindi riuscirei anche a passare sotto e a spolverare. Quindi non lo so, mi piace un sacco. Forse un problema, un problema con il recupero delle cose. Let me know. Buongiorno, è giovedì 13, sì, domani è 14, sabato è per agosto, ottimo. Appena ho fatto il temporale della vita, ma sta già uscendo il sole. Adesso facciamo colazione. La pilea vi saluta, come sempre. Caffè. Buongiorno. Grazie a tutti.